SIDERNET Pellet certificato in sacchi da 15 kg a partire da 5,29 euro Riscaldarsi costa meno e non fai fatica Grande successo ieri sera per il tributo ai Genesis al Teatro Verdi di Sassari con lo spettacolo dell'Oversleep La band, composta da 5 membri, ha avuto il compito non facile di replicare il trionfo della serata precedente della beatbox dedicata ai Beatles Le due giornate di Natale in rock, organizzate dalla cooperativa teatro e omusica, hanno attratto il grande pubblico sassarese Ieri, l'omaggio musicale è stato dedicato alla band britannica che ha lasciato un'impronta importante nella musica degli anni 70 e 80 Un ritmo travolgente con brani intramontabili come A Flower Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali L'Oversleep tradotto suona più o meno così, il balzo degli amanti, ed è ispirato ad uno dei brani inseriti nella suite Supper Ready Lo spettacolo, in un tripudio di luci e sonorità ricercate, ha ricondotto la platea nell'atmosfera dei concerti che hanno segnato la storia del rock e delle progressive Publi Street, azienda leader in Sardegna, nel noleggio camion-vela Publi Street, aziende, un'inathederale Come invece come si vincoli, hoc ecco ad una locazione di tramitare di suddigate